Salute a tutti. Quest'oggi io parlerei della terapia efficace, ovvero della psicoterapia efficace. Perché di psicoterapia ormai ce ne sono moltissime, siamo subissati da psicoterapeuti. E dobbiamo capire quale è che funziona e quale no. Perché è vero che la maggior parte delle terapie non sono efficaci. La gente viene da me e mi dice io ho fatto dieci anni di terapia, non ho risolto niente, non ci ho capito niente, sto come prima, eccetera, eccetera. E spesso mi dicono, mi ha risolto più lei con questi video che non il mio terapeuta, il che mi sembra assurdo. Però c'è del vero in questo, purtroppo. Il fatto è che una terapia, se deve togliere una sofferenza notevole, deve partire dal passato. Cioè deve andare a vedere l'imprinting del suo passato. Imprinting, imprinting, quello con la G finale, così ci capiamo. La terapia deve andare al passato perché l'imprinting dei genitori è quello che determina la nostra vita. Almeno la determina se l'imprinting è stato piuttosto forte. Se è stato traumatico noi dobbiamo andare lì e spesso è traumatico, anche perché spesso chi va dai terapeuti ha un trauma, più o meno forte. Ora, se è una cosa passeggera di non grande importanza, può andare bene anche una terapia comportamentale, cognitivo, comportamentale, eccetera. Poi se ne inventano di tutti i colori. Se è una cosa seria, bisogna andare nel passato. Andare nel passato fa paura alle persone. Purtroppo fa paura anche ai terapeuti. Perché non capiscono che se vogliono curare gli altri, devono anzitutto curare se stessi. Allora, un terapeuta, per diventare tale, deve essere disposto a far crollare qualsiasi tipo di fede e di appoggio. Quindi un terapeuta che ha una fede religiosa, che ha una fede nei genitori, che ha una fede nelle idee, che ha degli ideali, eccetera, non è un terapeuta. Il terapeuta che pensa di sapere già tutto dell'altro, non è un terapeuta. Però, pur non sapendo nulla dell'altro, dopo un po' che parla con la persona, capisce quanto è grave il suo trauma. E agisce di conseguenza. La differenza fra l'andare nel passato e la terapia comportamentale è che andare nel passato vuol dire togliere i condizionamenti della nostra vita. Togliere gli schemi, i condizionamenti, tutto quello in cui crediamo, abbiamo creduto. Quindi perdere ogni tipo di illusione, ogni tipo di appoggio. Rimanere soli con se stessi. Dicevano gli antichi che questa era una strada per re ed eroi, naturalmente, a modo di dire. Cioè per persone che hanno un certo coraggio. Chi non ha questo coraggio non deve fare il terapeuta. La terapia comportamentale, cognitivo-comportamentale, mira a sostituire il condizionamento con un altro condizionamento. Cioè tu sei abituato ad avere paura quando senti questo? Bene, io ti dico che quando c'hai paura tu puoi cercare di sostituirlo con un'immagine che hai già nel cervello di quando stavi bene, oppure ti strofini la mano sul cuore, oppure ti gratti la nuca, oppure fai un'altra cosa. Tu ti abiti a sostituirla, per cui quella cosa non la senti più. Però il malessere dentro resta. E quello da qualche parte riesce fuori. Ora, se uno non gli va di andare a snidare il suo passato, ben venga la terapia comportamentale. Ma se una persona è determinata a sopportare di soffrire pur di stare bene dopo, deve affrontare il suo passato. Cioè affrontare le cause e non lavorare sugli effetti. Perché vivere con i condizionamenti è veramente bruttina. Ogni tanto qualcuno mi domanda e come si fa a buttare giù la mente condizionata? Come se fosse la ricetta per cuocere i ceci. La realtà è che buttare giù la mente condizionata è la grande opera. Ovvero l'opera al nero. Cioè togliere tutto il nero che c'è dentro di noi. Il nero è lo scuro. Quindi lo sconosciuto è quello che ci fa paura. È il buio. I comportamentisti dicono se è sconosciuto lasciamolo perdere. No. Se è sconosciuto deve diventare conosciuto. Ma questo dipende dal carattere delle persone. Diceva Freud che facilmente chi ama andare nel profondo ama conoscere la parte antica dell'umanità cioè l'archeologia. Infatti sia lui che Jung erano appassionati di archeologia. Come del resto lo sono anch'io che certamente non sono all'altezza né di Freud né di Jung per carità neanche lontanamente. Però diciamo che sono una persona che è riuscita a capire questo. E questo già è stato un viaggio dentro di me. Cioè quello che io ho raggiunto a me sembra banale. però mi accorgo che rispetto agli altri non lo è. Non visto dagli altri ma proprio rispetto alle altre persone io ho fatto un cammino più lungo in genere. Il che non mi fa sentire di certo superiore né superiore né inferiore. Cioè è caduto il paragone. Il paragone è una cosa fittizia non esiste. Siamo tutti esseri umani siamo tutti esseri animali siamo tutti esseri senzienti eccetera eccetera. Non siamo niente. Chi si illude di essere un guru di essere un sapiente di essere un saggio a me mi chiamano maestra. Ma di che? Io posso essere un'indicatrice di qualcosa perché l'ho fatto io. e dico io ho fatto questo percorso a me ha dato questi frutti se a qualcuno può essere utile bene se no non lo prendete in considerazione. Naturalmente gli assetati di fede si arrabbiano perché perché io sono una senza Dio non credo in Dio e questo gli fa una rabbia lei deve via le persone io non devo io non voglio convincere nessuno la differenza tra me e un cristiano è che io non voglio convincere nessuno mentre loro non fanno altro che dire convertitevi e nelle varie epoche hanno ammazzato la gente se non si convertiva e ammazzato pure se si convertiva comunque e voglio dire io non non devo affermare quello che sento io lo propongo come una possibilità a qualcuno può servire ad altri no che le persone a cui non serve la ignori basta finisce qui perché arrabbiarsi tanto vabbè allora andare nel proprio passato vuol dire scoprire quello che ci è accaduto da bambini scoprire quello che ci è accaduto da bambini coinvolge ovviamente i nostri genitori o chi per loro o comunque chiunque ci abbia allevato e piano piano ricordare questo significa capire quali sono le persone che ci hanno allevato se ci amavano non ci amavano se ci hanno fatto del bene se ci hanno fatto del male capire chi sono stati capire se ci hanno dato cose buone o cose cattive se ci hanno reso infelici naturalmente a questo punto scatta la risposta preordinata ma se ci hanno fatto del male è perché poverini anche loro hanno subito del male e chi se ne frega su ogni cosa noi dobbiamo esprimere un giudizio noi non dobbiamo esprimere un giudizio io non esprimo un giudizio sui genitori che non riescono ad amare i figli dico solo che gli hanno fatto del male ma non è un giudizio cioè io non penso ah io al posto loro sarei stato migliore chissà che avrei fatto eccetera può darsi che io al posto loro avrei fatto la stessa cosa ciò non toglie che i figli hanno fatto del male e questa cosa l'ha detto affinché si ripeta il meno possibile e invece viene rifiutata non è colpa dei genitori siamo noi che ci facciamo il nostro destino siamo grandi e in grado di decidere da soli ma quando mai l'uomo è in grado di decidere l'uomo basta che ha un mal di denti che non decide più niente non capisce più niente figuriamoci se ha dei dolori interiori o esteriori che siano o tutte e due l'uomo è condizionato il bambino è il foglio bianco dove i genitori possono scrivere ciò che vogliono le religioni si reggono sul fatto che i genitori le imprimono ai bambini che non gliele fanno scegliere perché non gliele fanno scegliere perché li battezzano subito perché è più difficile togliere un battesimo che non non andare a battezzarsi se i genitori fossero veramente in buona fede lascerebbero i figli in grado di scegliere magari dicendogli questa è la mia fede io ci credo vedi tu che puoi fare invece no gliela inculcano li obbligano devono andare a messa devono battezzarsi devono fare la cresima eccetera eccetera perché perché non ci credono chi ha fede chi ha fede non vuole convincere gli altri il cristianesimo è tutto un convincimento forzato i cristiani hanno ammazzato messo sul ruogo torturato ne hanno fatti di tutti i colori per convertire tant'è vero che non hanno lasciato un solo pagano mentre tutte le religioni lasciano degli strascichi della vecchia religione i cattolici non hanno tolto la voglia questa è la storia allora guardare il nostro passato è la capacità di guardare la storia personale e impersonale se io non ho la forza di guardare la storia io sono imbrigliabile da chiunque chiunque mi può mettere le briglie e farmi andare dove vuole come un somarello se vado nel passato comincio a vedere come mi hanno trattato i miei genitori se mi accorgo che non mi hanno trattato bene mi viene una rabbia e un dolore al che subito intervengono i buoni cattolici che dicono devi perdonare chiudi tutto per carità quindi diventa inutile quello che ho scoperto io devo dire ai genitori sì ho capito voi non c'entrate niente per carità pure voi l'avete subito non l'avete fatto per cattiveria ma per ignoranza eccetera eccetera chiudo tutto così io non imparo niente io tradisco il mio bambino interiore io ho un bambino interiore che è me bambino che dovrei cercare di risvegliare quando perdona i genitori a zero il bambino che muore un'altra volta o rimane in un cantuccio incazzatissimo quello è un bambino e come tutti i bambini va salvato se una società preferisce i genitori ai figli è una società malata è una società che non ha futuro perché i figli sono futuro non solo li deve amare perché sono quelli più indifesi ma perché sono il futuro perché sono quelli che restano quando noi ce ne andiamo il guardia è che noi non vogliamo pensare alla nostra morte e ci dà fastidio se i figli ci sopravvivono questa è una cosa tragica ma vera io ricordo mia madre che sul letto di morte disse ma nel 2000 non doveva finire il mondo eravamo nel 2000 credo o 1990 non mi ricordo sì più o meno nel 2000 e mia sorella disse vedi lei vorrebbe che finisse il mondo con lei che non vuole deve morire solo lei devono morire tutti era vero lei desiderava questo solo che essendo in punto di morte lo diceva senza remore la mente se n'era praticamente andata usciva fuori quello che lei era lei non aveva mai amato negli altri ma neanche i figli e la cosa mi fece un po' ridere mi fece un po' ridere perché l'avevo superata se non l'avessi superata non mi avrebbe fatto ridere e oggi mia sorella è convinta che mia madre sia stata un'ottima madre ma siamo tutti così vogliamo credere di aver avuto degli ottimi degli ottimi genitori vogliamo credere di aver avuto di avere un ottimo dio vogliamo credere cioè teniamo in piedi delle illusioni senza vedere la realtà per cui non vediamo gli altri e non vediamo noi stessi non vediamo nulla siamo dormienti ma non dormienti nel senso di Guru Jeff che parla dei dormienti come se lui avesse scoperto chissà che cosa perché lui o almeno un speschi che ne parla insomma parla con la mente non parla col cuore non c'è un solo atteggiamento dell'anima nel suo libro non ci sono sentimenti e quest'idea che chi ha raggiunto un certo equilibrio non sia più toccato dai sentimenti è disumano io ho seguito in questi giorni le rondinelle che hanno fatto il loro nido nel mio giardino in una stanza coperta del mio giardino bene io ho scoperto cose che non ho trovato altrove ma semplicemente perché la gente non vede io ho scoperto loro hanno fatto due covate mentre io vivevo qua io ho scoperto che loro si rivedono coi figli tutti insieme con i figli della prima covata e con i figli della seconda covata la notte la seconda covata ritorna nel nido e dorme lì con l'assistenza dei genitori uno dentro il nido uno fuori si alternano marito e moglie ci sarebbe da scriverci sopra perché perché non ci sono falchi che possono aggredirli non ci sono animali che possono aggredirli e non hanno paura delle persone se arrivano i gatti che che ci stanno in casa in giardino i miei figli hanno i gatti dovete vedere come si calano il padre e la madre incuranti del pericolo vanno a beccare il gatto che scappa per paura che possa dare fastidio a uno dei piccoli se vola a basso sono eccezionali come genitori se vedono noi sono tranquilli e cantano pure perché sentono che noi siamo favorevoli gli animali non capiscono niente per gli uomini capiscono tutto loro quando noi umani spesso abbiamo molto meno sentimenti di loro allora siccome mi dicono che faccio divagazioni ed è vero divagazioni però abbastanza utili io torno al tema della necessità di andare con la terapia nel passato allora noi quando abbiamo un trauma nel passato cioè qualcosa che ci ha fatto fortemente paura per cui l'abbiamo cancellato piccola parentesi chi scoprì la cancellazione dei traumi fu Freud e la gente dice Freud è superato ha scoperto tutto lui ma che è superato senza Freud non sapevamo nulla Freud è stato un grande genio ha sbagliato alcune cose alcune piccole cose le ha sbagliate è vero ma ha scoperto tutto lui e non aveva nulla su cui poggiarsi come dice nelle sue lettere con Einstein dice la matematica però c'era tu ti sei basato su quella io non avevo neanche quello non avevo una base su cui svilupparmi e aveva ragione il bravo terapeuta deve essere una persona coraggiosa che non ha paura di andare dentro di sé che non ha paura di sconvolgere i suoi schemi che non ha paura di abbattere le sue illusioni che non ha paura di restare solo con tutte le delusioni possibili se non ha questo coraggio non faccia il terapeuta se non ha questo coraggio vado a fare un altro lavoro perché non può aiutare gli altri mentre un medico può aiutare gli altri anche se non è una bravissima persona se non ha capito un accidente più o meno perché anche lì è da vedere il terapeuta è basato tutto il suo sapere è basato tutto su quello che ha vissuto lui dentro di sé stesso dentro sé stesso se il terapeuta non ha affrontato se stesso non farà affrontare se stesso agli altri se il terapeuta non ha avuto il coraggio di andare a vedere non darà al paziente il coraggio di andare a vedere quello schema è la coltre sugli occhi che noi abbiamo e che ci impedisce di vedere il mondo quando la gente arriva qui sopra e comincia a dire io ho trovato un narcisista era una carogna mi ha fatto del male eccetera non si domanda mai perché mi sono lasciato fare del male perché la gente non vede se stessa e allora ecco la mente condizionata ma se tu guardi perché io mi sono fatto lasciare del male fatta lasciare fare del male tu non condanni il narcisista condanni me il che non è vero io vedo il narcisista e vedo il narcisista dipendente se io mi vado a cercare un narcisista una ragione c'è perché quelli che si vanno a cercare i narcisisti o quelli che menano o quelli che li abbandonano o quelli che non li amano c'è una ragione non è mai un caso nel mondo dell'affettività nulla è un caso noi se abbiamo avuto dei buoni genitori non andiamo a cercarci dei partner che non sanno amare o che ci fanno del male lo ripeto noi se abbiamo avuto dei buoni genitori dei decenti genitori non andiamo a cercarci partner che ci fanno del male che non sanno amare che ci abbandonano che abbandonano i propri figli eccetera eccetera altro argomento ma sempre inerente ci sono dei genitori che dicono i miei figli mi hanno abbandonato o uno dei miei figli mi ha abbandonato io sto soffrendo cosa posso fare io non ho la bacchetta magica e tu non mi dici l'unica cosa importante cioè perché il figlio ti ha abbandonato e a volte se glielo chiedi ti risponde che non lo sa questo lo fanno spesso i mariti con le mogli mi ha lasciato non so perché ma non è vero perché te l'ha detto chissà quante volte te l'ha detto e te l'ha urlato è una cosa che tu non vuoi prendere in considerazione se un figlio vi abbandona mi ha gridato in faccia del perché non vi vuole vedere se non ve l'ha urlato in faccia glielo chiedete c'è qualcosa che ho fatto contro di te ho sbagliato qualcosa me lo vuoi dire se glielo dite così lui vi risponde il fatto è che voi non lo sa volete sapere secondo voi lui vi deve amare perché è un figlio esattamente come avete fatto con i vostri genitori che non avete mai amato ma a cui avete sempre obbedito a cui vi siete sempre sottomessi sperando che i vostri figli avrebbero fatto lo stesso con voi allora il bravo terapeuta deve risalire all'infanzia risalendo all'infanzia tira fuori tutti ma tutti i dolori del paziente e se lui ce ne ha alcuni lui il terapeuta scoperti dentro cioè in superficie anche non in superficie ci sta male ed è via se ha affrontato i suoi permette al paziente di affrontarli non c'è altro modo di affrontare se stessi non c'è altro modo di scoprire se stessi allora noi ce ne inventiamo di tutti i tipi noi ci inventiamo che dobbiamo andare a scoprire i genitori e la storia dei nostri parenti dei genitori dei nonni degli zii eccetera cioè ci facciamo i fattacci loro ma non i nostri perché così scopriamo che cosa è successo nella nostra famiglia facciamo un perdono generale e chiudiamo la storia senza averci capito nulla e senza aver risolto nulla del nostro dolore il nostro bambino interiore si rincantuccia di nuovo nell'angolino in parte addoloratissimo in parte incavolatissimo e lo uccidiamo e poi a 70 anni dite ma io sono stata sempre male nella mia vita per forza non hai affrontato te stesso e se sei stato in terapia il tuo terapeuta non ti ha mai permesso di affrontare te stesso queste false terapie non aiutano per un trauma possono aiutare a superare un qualcosa un periodo un problema un contatto di lavoro una qualsiasi cosa ma non la nostra vita il nostro genitore che noi non abbiamo affrontato lo vediamo dappertutto allora noi tappiamo la nostra infanzia non ci ricordiamo nulla e questo lo facciamo noi non lo fa il terapeuta noi cancelliamo qualsiasi trauma della nostra infanzia è una difesa che l'uomo fa a se stesso che la nostra mente fa a noi a noi stessi per farci sopravvivere così cresciamo e abbiamo la possibilità poi di cercare anche tutto questo e di di sanarci oppure no dipende da ognuno però ci dà la possibilità di sopravvivere che altrimenti non avremo quindi va benissimo che noi cancelliamo i traumi della nostra infanzia tutti noi cancelliamo i traumi della nostra infanzia ogni tanto mi arriva qualcuno che mi dice io ricordo tutto come si fa a dirlo come si fa a sapere che uno ricorda tutto ma per assurdo neanche io lo potrei dire che ne so io ho scoperto un sacco di cose mi è caduto la mente condizionata è vero però che ne so non ho mai la certezza assoluta di qualcosa allora io credo di ricordare tutto però può darsi che ci sia qualcosa che non ricordo anche perché quello che non ricordo è sempre il lato peggiore io ricordo tutto se sto bene io sto bene e penso quindi di non avere traumi cancellati benissimo questo regge come discorso ma se stai male non lo puoi raccontare questo fatto che arriva gente e racconta io ho avuto genitori stupendi amabilissimi eccetera però sto male perché mi hanno bullizzato a scuola perché mi hanno fatto questo e quell'altro i bulli bullizzano chi è stato maltrattato dai genitori lo sento tutti lo sentano gli è stato maltrattato annusano la vittima e colpiscono sempre la vittima io fui bullizzata dai miei genitori però a un certo punto tirai fuori la mia aggressività mi salvai con questo i bulli non ci provavano con me eppure erano una creaturina debole perché me li mangiavo anzi difendevo gli altri e i professori mi chiamavano il difensore delle cause perse perché li difendevo anche dai professori naturalmente era una battaglia che io facevo contro i miei genitori anche lì c'erano le mie coperture eccetera eccetera però se il terapeuta non va a cercare nel passato del paziente è perché non ha avuto il coraggio di cercare il suo e allora che succede che la persona che ha il trauma cancellato ha cancellato il ricordo ma non il dolore non la sensazione l'ha attutita questa sì però se la porta appresso in modo minore ma se la porta appresso si porta appresso l'ansia e a volte gli attacchi di panico viene tutto dal passato tutte tutto lo star male immotivato del presente viene dal passato sempre c'è sempre una motivazione se io non vado a snidare il passato non tolgo il dolore dal presente perché? perché se io vado nel passato e risento la paura che sento qua anzi moltiplicata io capisco da dove viene questa mia paura viene dal passato e allora non ne ho più paura nel senso che mi fa male ricordare il passato ma non penso più che ci sia nel presente e nel futuro nel presente e o nel futuro non vedo più il pericolo imminente libero il mio presente che è una differenza enorme non avere più paura di morire di fame di restare senza soldi di ammalarsi dell'odio degli altri dell'abbandono eccetera è una cosa enorme se io libero il presente cioè il dolore del passato ma il presente è libero io sono un'altra persona sto molto ma molto meglio e quella liberazione io la ottengo solo se vado a vedere il passato perché se no quell'ansia mi rimane se io ho gli attacchi di panico è perché io sono morta di paura nell'infanzia è una tendenza è una ereditarietà le stupidaggini che sono scritte sui libri sono enormi ma chi sono io per parlare sì io sono per parlare perché il viaggio l'ho fatto dentro di me perché non lo dico perché lo penso lo dico perché l'ho esperito e quando l'ho esperito l'ho capito negli altri e li ho osservati e ho visto che funzionava così anche per loro non l'ho dedotto i libri sono pieni di deduzione i libri di psicologia fanno schifo sono pieni di deduzione compreso il DSM DSM primo, secondo, terzo quarto, quinto, sesto non so dove sono arrivati ma tutti osi criticare una cosa del genere sì sì perché nel mio piccolo io l'ho esperito e la gente scopiazza dai libri o deduce non fa esperienza questo è il male dell'umanità che parla con la mente non parla per esperienza cioè l'esperienza è quella dove c'è il ricordo e l'emozione il ricordo connesso all'emozione mentre l'altro è freddo e distaccato e non tiene in considerazione gli altri tutte queste terapie dove guardi il movimento degli occhi e gli fai ritornare indietro il passaggio io voglio vedere se tuo padre è abusato sessualmente di te se tu lo tiri fuori col movimento degli occhi e non diciamo fesserie fa quasi ridere ma è tragico non c'è rispetto per la sofferenza degli altri ci sono diverse persone che mi dicono sì ma uno non si deve far travolgere dal dolore degli altri deve trovare la gioia che cosa vuol dire? vuol dire che tu non ti lasci toccare per niente dal dolore degli altri e vuoi giustificare il fatto che non ti lasci riprendere dal dolore degli altri questo vuol dire perché il dolore degli altri lo fuggi quando fuggi il tuo se hai attraversato il tuo dolore lo reggi e reggi quello degli altri non c'è bisogno di fare le prediche quello che noi sbanderiamo è quello che noi non siamo riusciti a passare ad attraversare se io vado su un canale e scrivo ah io ho avuto dei genitori meravigliosi vuol dire che non li ho avuti ma che ci tengo a convincere gli altri di aver avuto dei genitori meravigliosi perché io mi devo convincere di aver avuto dei genitori meravigliosi che vuol dire che ho avuto genitori da schifo se io se io devo convincere tutti che Dio è buono e misericordioso è perché io non lo penso se non me ne frego che gli altri lo pensino meno anzi sono molto arrabbiata con chi dice il contrario perché ho bisogno che anche gli altri ci credano per crederci io e così sono i genitori e questo questa cultura dei genitori intoccabili è il male dell'umanità è uno dei mali dell'umanità uno dei più grossi però perché tenendo in piedi dei genitori fasulli noi teniamo in piedi un'autorità fasulla perché noi soprattutto tutti in Italia poi non ne parliamo teniamo in piedi dei politici a cui degli italiani non frega nulla noi abbiamo un paese stupendo meraviglioso uno dei più belli al mondo se non il più bello è inutile che lo sto a vantare eppure siamo un paese piuttosto povero non fra i più poveri ancora no perché? è perché i nostri politici non fanno il bene degli italiani nessun partito fa il bene degli italiani non gliene frega niente del bene degli italiani noi in fondo lo sappiamo ma non vogliamo ammetterlo perché sono genitori e allora ogni volta noi cambiamo partito votiamo a destra poi votiamo a sinistra poi votiamo per un altro poi ritorniamo a destra poi ritorniamo a sinistra facendo finta di non sapere quello che una volta un politico disse questi sono tutti d'accordo il che è vero poi si adeguò pure lui noi tolleriamo che i nostri politici ci trattino male molto più dei paesi europei di alcuni paesi europei in Francia non si permettono di fare una cosa del genere nemmeno in Germania nemmeno in Belgio nemmeno in Svizzera eccetera non si permettono di trattare il popolo come viene trattato il popolo italiano noi si perché noi abbiamo il culto dei genitori noi non permetteremmo al preside di una scuola di trattare male i genitori o di trattare male gli alunni non permetteremo a un professore di trattare male gli alunni non permetteremo al nostro medico di trattarci male non permetteremo a un terapeuta di rimproverarci perché ci sono terapeuti che rimproverano chi va da loro e paga per essere aiutato e li rimproverano ma noi abbiamo i genitori per cui se la squadra di calcio perde o vince è sempre la squadra di calcio è sempre il nostro ideale lo dobbiamo sostenere noi accettiamo l'autorità pedisseguamente perché accettiamo i genitori pedisseguamente se noi vedessimo i nostri genitori come sono noi ci ribelleremmo contro il potere quando il potere non fa i nostri interessi cosa che non facciamo nel comune di Roma c'è una spazzatura che arriva i giardini sono completamente incolti hanno licenziato tutti non esistono i vigili non esiste non esiste la polizia non esiste gli spazzini non esiste i giardinieri l'ho detto non c'è un servizio perché? perché hanno non le hanno licenziati non li hanno più assunti perché loro devono risparmiare per fare cosa visto che non fanno niente ma noi lo tolleriamo perché siamo schiavi dei genitori non possiamo ribellarci ai genitori non vediamo poi magari ce l'abbiamo col vicino ce l'abbiamo col capo ufficio che per carità a volte può essere intrattabile però non sempre con i colleghi i colleghi di ufficio oddio come sono i colleghi di ufficio come sono sei tu che sei arrabbiato con tutti perché non sai con chi ce l'hai perché il fatto è che chi è arrabbiato con i genitori se la prende con tutti gli altri si chiude dentro casa non vuole vedere nessuno ma non vuole capire che ce l'ha con i genitori perché nel passato non ci può andare perché i genitori sono intoccabili allora una buona terapia deve andare nel passato per capire chi sono stati i nostri genitori perché dobbiamo vederli come sono e nei sogni quando li abbiamo visti come sono di solito di solito dico di solito per non estremizzare mai ma in realtà è così in un sogno compare che i genitori muoiono è morto mio padre è morto mia madre muoiono nel senso che muoiono i genitori idealizzati gli altri li vediamo come sono avete ucciso i genitori li avete abbandonati i vostri genitori che diceva Gesù Cristo chi non abbandona come me i suoi genitori non è degno di me e pensavate che lui diceva di abbandonarli per strada di non soccorrerli eccetera no intendeva questo di superare l'appoggio dei genitori di vederli come sono un saluto a tutti